Parliamo con Tommaso Ugello per l'ennesimo stagione alla Giana, si parte sempre con grande ambizione? Sì, questo sarà il mio quarto anno qua alla Giana, l'ambizione c'è sempre, c'è sempre la volontà di migliorarsi per cui l'obiettivo della squadra sarà quello di fare ancora meglio dell'anno passato anche se sarà molto difficile, ci proveremo di certo Forse qual è la difficoltà maggiore, quando si arriva a Quinti, migliorare questa posizione sarà un'impresa non semplice? No, sicuramente anche gli avversari ci rispetteranno un po' di più, magari ci affronteranno in maniera diversa con magari un po' più di timore, per cui sarà sicuramente difficile ripetersi però ripeto, l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi Migliorarsi anche tu personalmente, insomma, si era sentito parlare un po' di qualche richiesta di tour di serie B è un tuo obiettivo quello di fare il salto in categoria oppure no? No, beh, l'obiettivo penso è qualsiasi giocatore, quello di arrivare più in alto possibile e il mio obiettivo personale, sì, sarebbe quello di riuscire a fare il salto in categoria probabilmente non è stato sufficiente quello che ho fatto quest'anno per meritarmi questa possibilità per cui proverò a fare meglio e non si sa mai, magari ci proviamo ancora da Gian